Oggi i lavoratori, i clienti e le infrastrutture IT sono dappertutto. Per potenziare la forza lavoro in modo sicuro, in un mondo in cui ormai è possibile lavorare da qualsiasi posto, serve la piattaforma giusta. Con MobileIron, facilità d'uso, sicurezza dei dati e gestione intelligente degli endpoints rappresentano la combinazione perfetta per questo concetto di Everywhere Enterprise. Facciamo in modo che possiate utilizzare tutti i servizi mobili in libertà e con la massima produttività, mantenendo allo stesso tempo sempre tutti i dati aziendali al sicuro. Come funziona? Alla base di tutto c'è il nostro Unified Endpoint Management, in breve UEM. Questo viene utilizzato per gestire dispositivi mobili e altri endpoints al fine di proteggere i dati personali e aziendali, mantenendoli allo stesso tempo separati. In questo modo siamo in grado di evitare che le applicazioni personali e aziendali interagiscano fra loro negli accessi e consentiamo agli utenti di utilizzare le proprie app preferite senza preoccupazioni. Giulia conosce già quali sono i suoi compiti di tutti i giorni al lavoro. Un'ottima idea! Ma c'è di più. Aggiungendo MobileIron Zero Sign-On potrà eliminare anche tutte quelle fastidiose richieste di password. Inoltre MobileIron Zero Sign-On consente ai dati di arrivare sui dispositivi finali di Giulia solo se l'app e il device sono affidabili. E il dipartimento IT dell'azienda non dovrà prima nemmeno adattare l'applicazione. Perciò Giulia può iniziare direttamente. Questo sistema le semplifica il lavoro di tutti i giorni. Anche il suo collega Daniele è d'accordo. Daniele infatti viaggia molto e ha sempre con sé il suo smartphone. Mentre in giro usa spesso il Wi-Fi per non usare i suoi dati mobili. Ma è un'azione sicura? Nessun problema! Grazie a MobileIron Threat Defense i dati aziendali rimangono protetti da qualsiasi attacco compresi quelli di phishing dall'esterno. Quando si verifica un elevato scambio di informazioni potenziali ladri di informazioni sono sempre in agguato. Una volta integrata la nostra soluzione sullo smartphone di Daniele la funzione di protezione istantanea si attiva automaticamente senza che lui debba fare nulla. Se il sistema dovesse rilevare una minaccia MobileIron Threat Defense potrà avviare immediatamente le contromisure necessarie anche se il dispositivo è offline. Per questa funzione vengono raccolti solo i dati rilevanti per il servizio e le informazioni personali vengono rese anonime. Le app private di Daniele non saranno visibili a nessuno nemmeno all'amministratore IT. Giulia e Daniele sono contentissimi. Da ora potranno lavorare con i loro dispositivi mobili con tutta la flessibilità di cui hanno bisogno in modo sicuro, facile, efficiente e in tutta libertà per poter essere produttivi senza nessun limite o password. Così i loro manager possono rimanere comodi e rilassarsi Domande? Per maggiori informazioni visitare www.mobileiron.com www.mobileiron.com Grazie a tutti.